Ciao a tutti amici di Pistachissimo.it! Comincia a far freddo, da qualche parte nevica, i negozi cominciano a mettere le lucette, cosa significa? Natale si avvicina e sì! Finalmente arriva quel momento dell'anno in cui comincia a recensire panettoni e pandori al pistacchio. E quindi cominciamo subito tra gli scaffali del supermercato con questo Pandoro al pistacchio a marchio Passioni. L'etichetta riporta Pandoro al pistacchio realizzato con pistacchio verde di Bronte d'O. Il pistacchio all'interno della crema è il 6,7%, mi sembra un po' poco, ma andiamo a vedere all'assaggio come si comporta. Sfiocchettiamo e vediamo com'è. Ed eccolo qua, il pandoro da 750 grammi e lo zucchero a velo, come in ogni pandoro che si rispetti. Versiamo lo zucchero e come ci insegna la più antica tradizione pandoresca, si prende e si agita. Ed eccolo qua, il pandoro imbiancato, bello morbido. Ed eccola qua, con la crema di pistacchio da questo lato e da questo lato. Devo dire che è abbondante. Il pandoro è molto morbido e molto molto buono. Vediamo la crema di pistacchio. Purtroppo per me il voto sulla base del gusto di pistacchio è questo. Come sapete, se seguite il blog, il marchio Passioni a me piace. Per essere prodotti da supermercato, sia il gelato che il pesto sono buoni. Ma questo pandoro, sinceramente, non mi ha convinto. Va detto, il pandoro è buonissimo, molto morbido e anche la crema è gradevole, è buona. Però col 6% di pistacchio, come temevo, purtroppo il gusto del pistacchio non si sente. Va detto, però, che costa pochissimo. L'ho preso al Simpli a 6,99€. Quindi, su una fascia di prezzo ampiamente sotto i 10€, diciamo che me lo aspettavo e ci può stare. Ci vediamo quindi nei prossimi video con altri panettoni e dolci natalizi. Se volete dirmi qualcosa, ovviamente, scrivetelo nei commenti o inviatevi un messaggio privato. Un saluto a tutti e al prossimo video!